È un percorso professionale dedicato ai ragazzi dai 18 anni in su per diventare performer completi nel musical. Il corso dura tre anni, è impegnativo perché sono cinque giorni alla settimana, cinque sere al giorno. Per entrare è necessario sostenere un'audizione conoscitiva per vedere le capacità del candidato. Possono avvicinarsi tutti, è necessario avere già un'attitudine o qualche interesse particolare verso il canto, la danza e la recitazione. Ovviamente se si è già candidati esperti si approfondirà il percorso. Molte le discipline tra cui edizione, teatro fisico, tip tap, musical theater dove si studia il repertorio del musical, storia del musical in cui l'insegnante Lucio Leone arriva da Milano, recitazione con Caterina Spadaro, tecnica canto con Valentina Gullace che è anche una performer di musical e poi altre materie di approfondimento che poi si susseguiranno nei vari anni. Casa Beat vuole essere un luogo in cui si respira il teatro a 360 gradi. Quindi i ragazzi che frequenteranno la casa per formarsi vivranno a pieno questa atmosfera. Al mattino la compagnia Beat prova gli suoi spettacoli, al pomeriggio i ragazzi si formano e quello che ci differenzia è un po' quello che è il nostro progetto futuro. Cioè sempre di più di portare i ragazzi che si formano sul palcoscenico, come dicevo prima, insieme a noi o insieme ad altre compagnie. Quindi quello che ci differenzia è la possibilità concreta già da allievi di poter fare esperienza sul palcoscenico. Il nostro piccolo teatro scalzo è situato all'interno di una delle nostre sale, la sala più grande, la sala teatrale, volutamente all'interno di una sala proprio per far fare esperienza ai ragazzi direttamente in un teatro e quindi comunque lavorare anche in vista di un calcare al palcoscenico. Quindi il teatro scalzo servirà a questo, ma servirà ovviamente anche per una rassegna di spettacoli sia serali che nel weekend per le famiglie e per i ragazzi.